Benvenuti al TG di Sala Stampa, il nostro appuntamento quotidiano con lo sport. Cominciamo subito a parlare di ciclismo, in particolare dei mondiali juniores di ciclismo che si stanno disputando nello Yorkshire in Inghilterra, perché arriva la terza medaglia azzurra per questo mondiale. Infatti il 18enne valtellinese Alessio Martinelli ha ottenuto l'argento proprio ieri nella prova in linea, dopo una gara senza respiro. A vincere è stato invece l'americano Simmons. Parliamo adesso di Serie C ed in particolare dei tifosi del Catania, perché come leggiamo dal sito di Sigrepress è ufficiale la notizia che riguarda il divieto di trasferta a Reggio Calabria per i tifosi rossazzurri. Come leggiamo dall'articolo appunto il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani ha ufficialmente comunicato il divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri per la gara che gli etnei giocheranno domenica 29 settembre in casa della Regina, in classifica a Braccetto proprio col Catania a quota 12, al secondo posto, al Granillo, fischio di inizio alle 15. Ma sentiamo adesso le parole dei tifosi a B ho pagato io.